Una cordiale buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e in Cisareggello in direzione Roma, rallentamenti invece in direzione Bologna tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico, code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa, code per traffico intenso anche in Fipilì tra La Strassigna e Firenze Scandicci in entrambe le direzioni con code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze, ma segnalare anche code per incidente tra Lavorie e Ponte del Ovest Ponsacco verso Firenze e code per veicolo in avaria tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione Mare. Città di Firenze a causa di un intervento urgente sulla rete idrica è stata chiusa via di Camaldoli all'altezza del Civico 28 e per il momento è tutto, muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze Buon viaggio!